Allora, intanto io sono molto 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 contento di conoscerti. Loro sono i giornalisti. The first question, la prima domanda. Ciao Erika, volevo chiederti come stai e com'è. Ciao Erika, è un bel lavoro, National Geographic. Perché il tuo padre ha voluto collaborare per la costruzione? Ti è piaciuto più il rapporto? Perché tra tutti i lavori hai deciso proprio di fare la fotografia? C'è una tribù che ti è rimasta più impressa? Perché ti piace così tanto la natura? Se quando eri piccola sognavi di fare la fotografia... Le abitudini della tribù che hai fotografato erano abbastanza diverse... Ciao Erika, che cosa ti piace più fotografare? Noi siamo. E non sempre sono issuesi diachenso. Ci sono veramente davvero molto interessati. Grazie mille. Oh ok, 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 ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, 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 bye. 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 Grazie a tutti.